Buonasera, un bel libro vi voglio consigliare, un libro che ho appena finito di leggere e che veramente credo sia fondamentale, Hildegard Keller, Quel che sembriamo, con lei che ritratta in copertina è Anna Arendt. Anna Arendt è una filosofa, una professoressa, una saggista, una politologa molto famosa, ebrea, è nata in Germania nel 906, ha studiato con Martin Heidegger, del quale è stata anche, ha avuto una relazione, poi se n'è andata, negli anni in cui Heidegger ha aderito in qualche modo al nazismo, si è spostata a Heidelberg e dove si è laureata con Carl Jasper, un altro importantissimo filosofo. Poi è stata costretta ad andarsene, è andata prima in Cecolovacchia, poi è andata in Svizzera, poi a Parigi. Nel 37, in pieno regime itleriano, è stata tolta la cittadinanza a Anna Arendt. I parigi, i francesi l'hanno imprigionata in quanto a Polide non utilizzata in qualche modo da rimanere lì. Lei è riuscita a scappare a Lisbona, è riuscita ad arrivare a Lisbona, da dove con una nave è andata negli Stati Uniti e dove ha continuato a lavorare ed è rimasta, è diventata cittadina americana, non è rimasta negli Stati Uniti fino alla morte. È morte nel 1975. È una filosofa molto importante, la maggioranza delle persone credo la conoscano e io sono fra questi, quindi non conosco bene la filosofia di Anna Arendt, però il libro che in qualche modo fa sì che molti la conoscono è questo qua, la banalità del male. Di cosa parla questo libro? Questo libro parla del processo a Eichmann, gerarca nazista responsabile della distruzione e dello sterminio degli ebrei, che nel 1950 era riuscito a sparire, non è sparito prima, ma viveva in Argentina, sotto falso nome, naturalmente i servizi segreti israeliani l'hanno scoperto, l'hanno preso, l'hanno portato a Gerusalemme e lì l'hanno processato in un processo importantissimo molto famoso. Alla fine è stato condannato a morte per impiccagione, ma lui si è suicidato credo uno o due giorni prima dell'esecuzione della sentenza con cianuro, con una capsula cianuro che in qualche modo è riuscito a procurarsi. Anna Arendt ha seguito il processo per conto della New Yorker, la rivista The New Yorker, e da questo processo sono venuti fuori alcuni rendiconti. Lei non doveva fare la cronaca giornaliera come quasi tutti i giornalisti che erano lì, perché lei ha fatto, come dire, dei riassunti, insomma, che poi sono stati raccolti tutti insieme, riorganizzati un pochettino, ma non modificati e appunto pubblicati sotto il nome della banalità del male. Anche il titolo ci fa capire, lei vede questo Gerard nazista come un uomo che non ha nessuna grandezza, non c'è questa grandezza del male. Tutti si aspettavano, e lei invece ha capito, o ritiene, che sia un uomo banale, ma banale che si giustificava dicendo che aveva eseguito degli ordini, eccetera. Adesso dobbiamo parlare di questo libro, che ripeto, è importantissimo. Dobbiamo parlare di questo libro. Questo qua è un romanzo, attenzione, non è la biografia di Anna Arendt, è un romanzo che parla della Arendt in diverse situazioni. Alterna questo libro un capitolo che viene ambientato in Svizzera, dove lei, vicino al lago di Locarno, dove Anna Arendt andava a passare le vacanze estive, prima con suo marito e negli ultimi anni da sola, perché il marito è morto, e questa è stata l'estate del 75. Ricordo che Anna Arendt è morta nel dicembre del 75 per un colpo al cuore, un arresto cardiaco. Allora, questo libro è un alternarsi di capitoli che si svolgono in luoghi e in tempi diversi. Vi faccio vedere. Il Tegna è il paese, 75, 41, 75, 44, 75, 50, 75, poi abbiamo sempre alternato, 61, 61, 61, 61, 62, 62. Questi capitoli parlano in particolare del libro sulla banalità del mare. Poi abbiamo ottobre 63, gli ultimi due capitoli sono nel marzo del 69 e nel agosto del 75. Nel marzo del 69 è a Basilea, dove è andata a tenere il discorso funebre alla morte di Carl Jasper. Mentre il viaggio di ritorno è raccontato nell'ultimo capitolo del 22 agosto del 75. È un libro di 500 pagine abbondanti che si legge molto bene ed è pieno, 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 pieno di interesse. Fa scoprire alcuni aspetti di Anna Arendt che io personalmente non conoscevo, ripeto, la mia competenza per quanto riguarda l'aspetto filosofico di Anna Arendt è perciò che nulla. Però ci fa capire molte cose raccontandoci la vita di Anna Arendt e i pensieri e le persone che ha conosciuto e i rapporti che ha tenuto con queste persone. Una buona parte è dedicato alle tante polemiche che sono sorte dopo la pubblicazione del libro, che è stato accolto non bene da tutti, ecco. Però, insomma, ci fa capire tante cose di Anna Arendt. Piccola parente, mi sono comprato un paio di libri dell'An Arendt per capirne un pochino di più, ma questo è un altro discorso. Ecco, io concludo dicendo che veramente chi conosce la Arendt, chi conosce il libro, e naturalmente mi sembra ovvio consigliarvi di leggerlo, questo libro, cioè questo libro è un libro che va letto. Io l'ho letto, qui ho scritto nel 99, o meno l'ho comprato nel 99, solamente l'ho letto poco dopo, ed è fondamentale in tutto quanto. Quindi, riconsiglio, eccolo qua. Piccolissima parentesi, se siete interessati all'argomento, io vorrei consigliarvi anche questo libro, I Volontorosi Carnefici di Hitler, è un libro che è Goldhagen, un bel libro, un libro di storia, un libro di critica storica, ed è molto importante, se vogliamo capire ancora qualcosina di in più, su una Shoah e su quello che è successo in Germania nella nostra Europa il secolo scorso. Bene, buona lettura con tutto il cuore.